Amici 22, le prime parole di segreto dopo l'eliminazione dal talent. Sabato scorso, nel corso della terza puntata del serale di Amici, ad avere la peggio è stato il ballerino Samuele Segreto. Proprio quest'ultimo, non appena è terminata la puntata, ha detto la sua sull'eliminazione e sulla sua esperienza d'amici. Ecco le sue parole. Inoltre, lo stesso Samu nelle scorse ore ha condiviso un lungo post su Instagram. In cui ha voluto nuovamente ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto. Grazie. 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 Grazie.